Questa è la Sega! Spazzato via la Sega, Santa Maria in organo, il maglio del ferro San Silvestro! Che disastro! Capitano, i giardini sono al lavoro! E non occorre perché è rimasto bloccato! Tutte le barche e i gendarmi del governo sono impegnati nel soccorso insieme a molti cittadini di volontà! La solidarietà di Verona si vede nel momento del bisogno! Ecco, uomini, dove andate? Siamo detto che ci sono molte persone trappolate nelle case dell'isolo! Andiamo ad aiutare i soccorritori! Attenti a scendere la portata, l'acqua, l'acqua si è coperta tutta! Potremmo aggiungere l'isolo prima che sia tagliata fuori dalle acque! E vandorrà dalle guapie! Come? Ho detto che i gendarmi non ci sono sui litro! Sono in tutta la città! Ma soprattutto dove c'è meno pericolo! E' quello, lo conosci? No! Sarà anche dal progetto! Oltre! Ah, ricorda!